che marco presto guarda td non so se fa peloso perchè ci stiamo avvicinando mi è peloso ma non c'è il tipo che mi sta vedendo dai marco fammi registrare cazzo steve ma fa il lino retino ma che cosa fa guarda mi sta vedendo no coglione vieni qua ma che qua è controllato se faccio fuori il cane didamina non lo so, provaci Marco, ma io non ti prometto niente, il cane se ti sgamano che è morto qualcuno, poi so cazzi si spara dopo coglione Marco perché sei venuto qua stai si volevo venire vicino a te, scusa lancia i sassi ma perchè hai sparato sti porca, te voglio sti spitto, spara non ce l'ho fatto non c'hanno ancora visto non c'hanno ancora visto zitto, zitto, che non c'ha visto Marco nasconditi fuori non c'ha visto, non c'ha visto no, morto il cane no, non è qualcuno non sto capendo quello che c'ha visto spara Marco Winchester, Winchester non lo so Marco, fai spondere un po' di roba Marco, c'ho un'idea no, amica Marco guarda lì eh no, ho lanciato non so che cosa ah no, l'ho lanciato una granata ecco per nardo, guarda che cazzo che spara Giovanni aspetta che qua che paura ma scusa ma chi è che sta sparando? eh non lo so mi sta sparando anche a me non lo vedo ma paffanculo che roba merda non se ne accorciano di me alleluia minchia quanto sangue che ha sgozzato quelli hai visto che roba Marco? ce l'abbiamo fatta Marco, sei stato tu a aggredirlo eh qua non so cosa c'era comunque c'era un botto di roba c'era da prendere perché non è un avamposto eh non lo è c'è sicuramente la jeep ma la jeep non ci andiamo in jeep andiamo a piedi cazzo prendiamo la jeep no, non ci andiamo a giro Marco, io l'ho girata tutto a piedi c'è scusami eh adesso vabbè, non giro tu in piedi in qualche modo vabbè, però guido io eh traverto no, adesso non la guida la mia no, Marco, che cazzo vabbè, è vero devi vedere la guidabilità con me sì, ma non andare veloce sennò non vediamo un cazzo di mappa eh scusa, questo posto di mappa non c'è niente non è vero Reza, ma cosa stai diri ti dici mi chiamo Jeff stai, ti ricordo, questo cazzo fuoco, dove siamo? aspetta che... oh, un attimo inizio questo fuoco inizio questo fuoco inizio di cosa? del gioco ti ricordo che non sta chiuso fuoco cazzo è vero c'è ragione uomo sai dove possiamo andare adesso? adesso ti faccio vedere dove andiamo eh c'è una bella sorpresina se riesco a trovare il luogo della mappa eccala qua andiamo lì ti faccio incontrare i bisonti, Marco i bufali devi ammazzarne forse tre devi ammazzarne dunque siamo pronti ho preso tutto mi siedo dietro in mentre Marco eh mi allaccio la cintura vediamo medida pandega guardala andale andale Marco guardami andiamo actual aicolpe che sportiveggiante Marco ah quindi il testi guida bene aspetta che volevo vedere un attimo la mappa se la stai aprendo si però manca le isolette poi ci andremo alle isolette non ti preoccupare eeeh sgommata questo? non lo so scendiamo scendiamo stavolice gestire aspetta che gli aggiusto il mezzo ma io l'ho giustata hai visto? con questo non lo rubiamo questo no perché vuoi rubare? oh che cazzo che cretino no non sparare no 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 non sparare ai ranger critico ma che dopo succedono i macelli mai a sparare ai ranger ma e ho capito ma non sparare ai ranger e cali adesso arrivano a romperci con io non ho manco uno me ne lascio ma cos'è? è questa qua direi questa qua non mi posso mettere dietro aspetta aspetta che mi stavo mettendo vai 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 parti parti Marco sono dietro che figato Marco l'ho preso l'ho preso scendi 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 torna indietro torna indietro che ho preso il furgone non ci posso di dietro mi dice quanto l'ho preso devi liberare gli ostaggi qua dentro dividi col furgone lì libera gli ostaggi Marco ti danno altre missioni ci penso io qua ci penso io cazzo ho beccato l'ostaggio oddio ho beccato l'ostaggio si dentro al furgone non l'ho fatto apposto non l'ho fatto riesce a parlare con quel ragazzo non giusto non giusto marco arrivano loro uomini di nuovo di brutti che cazzo fa fare con i rimpidi altri uomini eh cazzo abbiamo allertato tutti marco qua ma c'è invece divertiamo vedi che è storto sto cazzo di fuscino mira troppo non lo so c'ha troppo rincuro oh attento che ti fai marco un'altra cosa un'altra cosa stai attento che i civili ti inculano la macchina stai attento adesso lo investo no non investirlo marco dai che succedono in macea non investir non si fa dalla strada ma non vedi il segnale che ti ho messo poi? si 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 eeeh andale andale madò quanta gente c'era dietro è dietro porco c'è un puttanaio di cento dietro ma poverino ho preso l'ho preso eh bisogna distruggere il camion marco distruggilo hai qualche bomba qualche c4 io se vuoi c'è un c4 ti do un c4 marco li do un'aciquattrata ma non c'è niente no lo devi forse spaccare qui questo mezzo non l'ho mai preso guarda guarda c'è gente puttana cos'è successo cos'hai fatto? menti puttana mi hai disintegrato con quell'esplosione pensavo che avevo pure l'armatura e sei vivo? eh no mezzo morto solo ma c5 è quello ma tu ma ho fatto una cosa distruttiva marco cioè che c4 ho fatto eh quello è nemico ma questo è un civile no quello è un civile ma questo è un nemico comunque devi parlare agli agenti se riesci ma questo è che c'è un valamo anche si ciao è orribile c'è gente legata alla casa dei ranger e gli sparano vabbè ha ragione no non ucciderli comunque stico a che vado per un po' no cazzo scusa stico a che vado per un po' no cazzo sti ciocotto cazzo c'è qualcuno? eh si era mio c'è un lupo 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 il lupo fa così resina marco se questo qua si leva gli do di 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 no marco allontanati che io volevo mettere il c4 vado a distruggere c'è gente legata alla casa dei ranger e gli sparano come bersagli vivi devi andare a salvare una stazione dei ranger marco sono pronto stai lontano eh lontano ho sbagliato scusami forse così c'è la data quello anche devi distruggerlo anche quello lì eh questo è il furgoncino bianco no sbaglio che sposto la moto eh ma mi sa che non ho più c4 no c'è io c'è io marco roba di battlefield questa roba eh c'è ci vuole un mio antico non posso mettere dentro un bagagliaio? c'è 2.000 eh marco levati 2.000 turbo ma non posso mettermi dietro? oh stronzo ma è tutta insanguinata il signor poverace ah ma no marco forse ho trovato il garage la roba da vendere dal verde bravissimo qua 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 ti faccio vedere il mio mezzo marco che ho comprato io no no che carino a cazzo marco adesso ti faccio vedere cosa ho comprato allora ho comprato un botto di roba ecco qua marco bravo marco ah scusa questo è una roba per la caccia marco questo mezzo qua è successo qualcosa niente scusatemi vestiti di truma no non in quel cosa lì marco guarda che ci sono due nemici che stanno arrivando st niente stocco si morire perché il lupo è forte visto il mio mezzo che si fisco l'impacto un po' l'impacto un minuto ma lei mi disse che stavo amare in giro per la caccia oppure ti faccio vedere un altro mezzo che questi figli guarda è questo qualsiasi disino marco questo mezzo cuore faccio vedere ciò dove dire almeno per il turno effettino cazzo ci abbiamo questo ci abbiamo marco un bel mezzo piratesco dove sei marco cazzo stanno sparando se mi stanno uccidendo da qui sono morto ma come arrivo subito ecco c'è un trofeo da investire 5 nemici marco esplode tutto lo sai ciao uomo sono morto che bello che sei ma che cazzo sparo questa gente qua dove arriva noi stavamo solo comprando oppure c'ho un mezzo marco c'ho l'altro mezzo che è più devastante del trattore a parte i cammi il cammi lascio di qua il cammi sul cammi comunque c'ho un mezzo qua che ho vinto era il allora c'ho due con il mitra sopra mi sembra ma no marco ti piace questo no marco non puoi avere tutto quello che vuole la vita ma abbiamo il mezzo di giurassic park ma scusa guardalo bene marco viene a vedere marco stai a vedere il primo pod no non lo vedo ora come ho messo il freno della macchina dietro dietro? è dietro? è sbagliato è tutto sotto in giro guarda viene a vedere questo ci abbiamo ma questo è figlio ma se vuoi c'è se vuoi la macchina da corsa ce l'ho eh non si se vuoi ci ce l'ho questa cosa ma marco ma stai zintonato cioè voglio farti vedere le cose mie non so fammi fare le cose fammi vedere un po' di cosine qua ce l'ho questo marco questa è una macchina da corsa eh vaffanculo quella era mia però ma non ho fatto la c'ho stile ma ti prendo tanto con il nome di un buggy ma non ho verità viri 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 ubis marco c'erano dietro i nemici se non hai visto dove era da sparare Spara Marco di lì Eh di lì Hai visto quella jeep quando andava a fuoco Eh sì eh Marco sto per morire Posso entrare in auto Cazzo lanci i fumogeli Che fughetta Eh che sgommaggio Anche a me mi hanno ucciso Marco E aggrappati la vita E aggrappati la cazzo Marco No